musica datemi una mano a tornare dove ero prima, iscrizione al canale gratis e campanellina allora purtroppo si è arrabbiato nel team chi non si doveva arrabbiare sentiamo sempre le solite diffamazioni bruttissime non abbiamo mai parlato di fondi occulti, sfido chiunque a dire il contrario ci sono le live, voi pensate se gente di un certo livello come questi ragazzi avete capito no? che non sono dei charlatani che vanno a chiedere soldi in giro pensate se parlano di fondi occulti insomma i amati soprattutto persone che lavorano a sua volta con certe tipologie di persone continuano a metterci in bocca cose che noi non abbiamo mai detto ma il livello purtroppo è questo come quando provano a smentire Fiker Center in turco si dice Fikyar ah la Turchia con l'Arabia Saudita non c'entra nulla provano a smettire allora prima la relazione l'era vecchia e invece e ci hanno battuto il capo fatta il 4 ottobre poi riprendevano un articolo di BT ma l'articolo di BT ancora qui in quell'articolo lì non era avvenuta né l'acquisizione del Newcastle né nulla loro parlano di acquisizione del Newcastle da prima che avvenisse e dell'acquisizione dell'Inter dell'accordo di vendita dell'Inter quindi l'articolo di BT non c'entra nulla sono riusciti a capirlo anche loro e ora hanno preso un articolo di PIF di un anno fa loro vogliono smentire una relazione di questi pensatori di questi studiosi con un articolo vecchio di un anno fa anzi di un anno e mezzo fa una relazione fatta 40 giorni fa ancora non hanno ancora non hanno capito tutto gli servirà un'altra settimana loro pensano che questi siano loro pensano che loro questi qui che abbiano fatto questa relazione perché debbano vendere delle copie ancora non hanno capito non sono giornalisti e che non hanno nessun interesse a scrivere quelle cose sono dei pensatori sono degli studiosi abbiamo spiegato già mille volte di che categoria fanno parte questi signori che hanno redatto quella relazione non c'entrano più gli esonerati qui qui c'entrano loro andate da loro hanno provato a smentirla in tutte le maniere poi quando uno purtroppo è a rantolo la volevano smentire con l'articolo di PIF di un anno di 15 mesi fa cosa c'entra quella roba di 15 mesi fa loro sono già avanti di 10 anni rispetto a quella robaccia che avete fatto vedere non c'entra nulla ragazzi vi tirate la zappa sui piedi da soli perché la gente sveglia e le vede queste cose qui era meglio quando dicevate che la relazione era vecchia anche se poi ci avete battuto in capo perché è del 4 ottobre è certificata c'è gente che ha chiamato che ha mandato le mail fatelo anche voi vedi siamo sempre lì uno pretende di guadagnare le persone pretendono di guadagnare di chiedere i soldi ai tifosi del litter senza nemmeno alzare il culo dalla sedia informarsi e chiamare siamo sempre lì siamo sempre lì per quello io ti dico ti chiedo fermati ad un canile ad un gattile fai una donazione a loro non dare soldi in giro questo è quello che piacerebbe a me non sperperare soldi in giro per sentire cose che non esistono l'inter è di tutti i tifosi dell'inter deve essere gratis vogliono smettire degli studiosi un articolo di un anno e mezzo fa questi parlano dell'acquisizione dei newcastle nella relazione prima che avvenga ma di cosa vogliamo ragionare ancora di cosa vogliamo ragionare ci accusano di aver detto sono andrati che sono entrati dei fondi occulti prenderete veramente stanno prendendo veramente delle precauzioni verso di voi state esagerando e poi ve lo ripeto non fate paura a nessuno con le vostre minacce quotidiane non fate paura a nulla zero ovo paura non siamo noi a dover avere paura perché noi abbiamo l'oscenza a posto non siamo certo noi non siamo certo noi e a breve forse avremo anche Zanon sul canale ho parlato con Zanon già la seconda volta forse verrà anche sul canale a fare una live signor Zanon che da qualcuno è stato definito in una certa maniera bisogna prendersi le responsabilità e che si fanno le ose e poi si scappa da qualcuno da tante persone ora Zanon è diventato chi è questo qui ve lo spiegherà lui sperando che venga sul canale mi ha detto appena può viene ora è da Corcione appena può per fare una live sul mio canale non ci rubiamo gli ospiti a Corcione ci sono problemi chi ballerino chi ballerino ma prima di parlare del ballerino visto che siamo in ambito in ambito di persone un po' strane c'è uno che si vuole festeggiare da solo per il 19 novembre cioè qui ci sono i video io e Semenapa abbiamo i video con il turbante con i cartelli in mano perché quando fu data quella data io ho tutte le prove anche se qualcuno che mi ha cancellato li ha cancellati quei video ma fortunatamente sono rimasti in memoria Semenapa qualcuno si vuole auto festeggiare quando ebbe la fantastica idea visto che non fu mia l'idea e nonostante tutto con questi mezzi ometti io mi presi tutta la colpa di andare davanti alle telecamere ma l'idea fu loro ma lo sa lo sa l'ottanta per cento del web ed è giusto che lo sappia anche quell'altro quell'altro venti ci sono dei video dove c'è questo personaggio un inturbante e fa vedere i cartelli anche perché io ho ancora il whatsapp ho ancora il whatsapp che ero a Parma da un cliente esco vedo un personaggio sul mio canale con il cartello in mano e questo whatsapp sto capendo se lo posso far ascoltare oppure no mi sto confrontando un illegale dove dico ma che cazzo stai facendo chi te l'ha detta la data sei sicuro di far vedere questi cartelli gente faceva live con il turbante con il cartello in mano vuole festeggiare il 19 novembre ragazzi ma io cioè veramente ma qual è il vostro problema nella vita invece di stare zitti e di far finta di nulla cioè vi volete svergognare da soli accomodatevi accomodatevi liberissimi di farlo ma ci sono le prove però pensierai mia che che quelle venti trenta persone poi ti credano perché nemmeno quelle venti o trenta ti crederanno perché faremo vedere cosa facevi poi dopo mandami gli strike intanto sei andato fuori dal canale ti abbiamo buttato fuori e mi hai filmato anche un bel foglio non solo a me poi dopo autofesteggiati pure da solo e poi dopo vedremo purtroppo ragazzi su youtube c'è gente che non ragiona c'è gente che non come fai a ragionare con questa gente ma ognuno è libero di fare ciò che gli pare ad ogni azione corrisponde una reazione il ballerino oddio il ballerino il ballerino io te l'avevo detto vendilo quest'estate il ballerino t'avevo detto dallo in prestito accontenta te l'avevo detto accontentati di 5 milioni ma il ballerino dallo via t'avevo detto quest'estate è un giocatore periodoso mi dispiace per il ragazzo che si è fatto male anche se non è che non cammina c'ha un'infiammazione importante ma può stare fermo ho sentito stamattina mentre guidavo radio sportiva è la mia radio preferita radio sportiva se a qualcuno interessa può stare fermo dai 3 a 6 mesi ma come dai 3 a 6 mesi e a chi lo do il ballerino le disgrazie poi non vengono ripeto sono vicino al ragazzo per l'importunio ci mancherebbe sicuramente che gireranno le scatole le disgrazie poi non vengono nemmeno da sole perché tu Ram sta andando al Bayern Monaco poi qualche fenomeno che dice rimane Zang gli vorrei dire a questi fenomeni come fatti dare fuori 10 milioni in Zang cosa succede? che perdi Turam che era quello giocatore Turam allora tra Turam rotto e il ballerino sano andava preso Turam rotto e aspettato parte di 2-3 anni più giovani Correa è giovane ci mancherebbe ma era quello l'investimento da fare invece no 31 milioni per il ballerino c'è lo Tito e sta stappando ancora bottiglie gli è venuta la Fentiniti allo Tito a forza di stappare dello Champagne per i 30 milioni che l'Inter chi darà in 4-5 anni e Turam è un giocatore che a me è sempre piaciuto ci furono delle polemiche incredibili i ragazzi della chat degli esonerati lo sanno quando l'Inter prese Correa non Turam ragazzi giocatori da prendere la Turam eh ma Giuse gli stessi ragazzi della chat mi dava il contro ora che mi dici ora dei ballerini questi sono i casi in cui quando purtroppo dicevi cose che poi erano veritiere non sei contento perché è comunque un giocatore dell'Inter anche se è un ballerino è un giocatore che non è servito quasi mai a nulla perché anche l'argentina aveva fatto il 5-0 è inciampato e ha fatto il 5-0 poi si è rifatto male però purtroppo la situazione è questa Gosens Borna Sosa di Borna Sosa ne ho parlato quest'estate grande giocatore grande resistenza molto bravo però c'è questo Benze Baini che a me piace forse di più di Borna Sosa Rocco che saluto che abita in Germania grandissimo calciofilo anche a lui piace Borna Sosa piace anche Benze Baini ma ragazzi ma cerchiamo di prendere un esterno per bene ma l'esterno per bene si cerca di prenderlo se si riesce a piazzare Gosens perché io dubito io sono il primo a stappare le bottiglie perché Gosens era un altro giocatore detto ridetto rispappardellato era un altro giocatore io non volevo al Nint dubito però che a gennaio ci sia qualcuno e ti dà 20 milioni per Gosens Ballerino secondo me rimane a questo punto perché cosa fai? già sano è difficile da vendere se il ragazzo è anche fortunato dove lo mandi Ballerino? Ballerino farà l'abbonamento in infermeria fino a quest'estate ma Gosens chiterina a 20 milioni cioè per quello ti dico e a noi serve come il pane un esterno sinistro anche se c'è un Federico Di Marco ma che ti ripeto per come vedo il calcio io e posso sbagliare Federico Di Marco lo vedo molto di più come esterno di centrocampo perché è per fare tutta fascia devi avere forza resistenza e fase difensiva è vero puoi sopperire alla fase difensiva però a Federico Di Marco se ci fate caso difficilmente fa 3-4 partite sullo stesso livello ne fa 2 su 4 ottimi quella 3-2 prende la sufficienza perché gli manca la resistenza è un discorso di struttura fisica proprio capito perché siamo sempre lì se invece di cinese c'era una proprietà sana normale negli ultimi 3 anni hai visto Hansello andare via hai visto Hakimi andare via e poi dopo l'esterno sinistro hai fatto l'acquisto di quello in un acquattrini perché hai preso un giocatore infortunato a prestito pagherò ma sono sempre i 25 milioni sono sempre i soliti discorsi poi alla fine allora il cinese lasciamolo perdere sappiamo tutti se ne sta andando si è stancato anche lui di essere offesa ai semafori a Milano mi dicevano l'altra sera il ragazzo era lì in macchina a un semaforo ha preso più offese lui che è un ladro tra un po' mi dispiace per il cinese perché è un ragazzo di 30 anni alla fine non ha tutte le colpe lui però ragazzi abbiamo visto delle robe allucinanti e a parte il cinese ora la dirigenza ora io mi aspetto un colpo di classe da questa dirigenza e comunque a detta di tutti voi soprattutto sono dei fenomeni compreso Marotta Ausilio a me piace molto eh io lo stimo molto Ausilio perché voi vi siete scordati che Ausilio ti ha portato Kovacic il ragazzino Brozovic con una cassa di birra e due chili di patate ti ha portato Coutinho detto Coutinho che Coutinho è arrivato ad avere un valore di 160 milioni di cartellino di cosa vogliamo ragionare mi aspetto qualcosina da i fenomeni soprattutto da Marotta anche se non è proprio il suo campo specifico perché lui è comunque l'amministratore delegato però le manine ce le mette spesso Marotta nel mercato no? Vedi Eriksen per esempio perché andare da in Manchester United te lo ripeto per l'ennesima volta il comprare Lukaku a 90 milioni e fa un girone di ritorno e panchina e so buono anch'io andare dai Cagliari e dare 50 milioni per Barella e so buono anch'io fatemi vedere qualcosa sulle 20 a gennaio ciao Inter Grazie 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 Grazie